Sono contento dai. Sì, dici, sei un po' di delusione, sacchiamodolo, però contento comunque di passare per le strade di casa. Sì, diciamo che le mie soddisfazioni sarebbero altre. Ripeto, volevo far bene oggi, è arrivata la fuga. Sapevo che oggi non era una tappa così facile come dicevano, perché viene dopo due tapponi e domani ce ne sono altri due. Quindi sapevo che poteva finire così e stamattina noi ne abbiamo messo uno davanti a Prosta perché sapevamo che si poteva vincere anche con la fuga.